benvenute e benvenuti a molecole in scatola dialoghi su chimica e società a cura del dipartimento di chimica dell'università di torino in ogni puntata racconteremo un problema una necessità tecnologica o un mistero risolto dalla ricerca o su cui si sta ancora lavorando tirando fuori dalla scatola una molecola o un materiale o un oggetto per capire come funziona a cosa serve o dove lo trovate magari senza saperlo nella vita di tutti i giorni quale sarà il contenuto della scatola di oggi buongiorno a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di molecole in scatola io sono marco minella sono professore associato di chimica analitica presso il dipartimento di chimica dell'università di torino e con me qui c'è davide vione sono professore ordinario di chimica dell'ambiente presso lo stesso dipartimento allora davide cosa abbiamo oggi nella nostra scatola allora dunque fammi vedere vediamo un pochettino che cosa c'è dunque direi che c'è un blister e qui c'è un farmaco in particolare è un analgesico a base di ibuprofene che cosa ogni volta che vedo un blister così mezzo utilizzato e mezzo no qualche qualche idea può venire in primis qualcuno avrà avuto qualche problema si utilizzare un farmaco si direi un'emicrania dell'influenza sicuramente ha consumato un po di questo farmaco si spera che abbia fatto un effetto positivo ovviamente se qualcuno ha assunto un farmaco vuol dire che l'ha metabolizzato una molecola come l'ibuprofene in particolare oltre a svolgere il suo la sua azione come antipiretico nel nostro organismo in parte è trasformata ma in buona parte viene escreta attraverso le urine come il composto di partenza allora no calma calma che vorrei capire bene quindi noi assumiamo dell'ibuprofene perché abbiamo del mal di testa ad esempio in parte lo metabolizziamo si spera faccia il suo mestiere poi però in parte lo rilasciamo nelle fognature sostanzialmente viene da dire che per fortuna ci sono gli impianti di depurazione dove faranno il loro mestiere e abbatteranno completamente anche non solo gli altri composti ma anche gli ibuprofene di turno per fortuna si è quel completamente su cui bisogna un po discutere perché non è proprio vero che gli impianti attuali di depurazione dell'acqua fognaria sono in grado di degradare completamente i residui dei farmaci in particolare molti di questi composti sono poco biodegradabili l'ibuprofene più o meno diciamo che un po' è degradato in quello che è il trattamento dai microrganismi in quello che è il trattamento la vasca fanghiattivi si chiama che è un pezzo molto importante di quasi tutti gli impianti attuali di trattamento dell'acqua fognaria in parte è biodegradato in parte vuol dire diciamo un 50 per cento perché il restante 50 per cento purtroppo non è degradato e va a finire nelle acque naturali tra l'altro c'è un fatto non c'è solo la degradazione a dirla tutta una vasca fanghiattivi può abbattere un inquinante in almeno due modi diversi il primo è proprio la biodegradazione i batteri semplicemente amano questa molecola se la mangiano la usano come nutrimento e di conseguenza la degradano l'altra possibilità è che questa molecola sia poco solubile in acqua di conseguenza non ami veramente ama veramente poco le molecole poco solubili in acqua non amano stare in un ambiente acquoso e preferiscono attaccarsi alla prima cosa diversa dall'acqua che trovano potrebbe essere la parete di vetro di un contenitore come questo ma potrebbe anche essere semplicemente la biomassa batterica le cellule batteriche i batteri non se lo filano magari questo composto non lo degradano ma il composto piuttosto che stare in acqua preferisce attaccarsi alla biomassa batterica quando la biomassa batterica è separata dall'acqua da trattare dall'acqua parzialmente trattata che passa allo stadio successivo e la molecola rimane nella biomassa a quel punto che succede alla biomassa batterica secondo me quando va male dal mio punto di vista viene utilizzata come fertilizzante sparsa sui campi e qui il composto può rientrare nei cicli ambientali oppure può essere bruciata per recuperare energia e a quel punto effettivamente viene degradata però molti farmaci e l'ibuprofene uno di questi un altro è la carbamazepina ad esempio la carbamazepina è un antiepilettico serve per curare le convulsioni più che altro e sostanzialmente molti di questi farmaci sono piuttosto solubili in acqua quindi se non sono degradati difficilmente aderiscono alla biomassa batterica e quindi alla fine veramente li ritroviamo nelle acque naturali allora se ho capito bene all'interno degli impianti di depurazione quello che succede è che in parte se siamo fortunati alcuni di questi composti vengono abbattuti e rimossi in altri casi invece questo non succede c'è una variabilità dovuta al singolo composto quindi ci sono principi attivi o molecole che vengono maggiormente abbattute rispetto ad altre mentre altre vengono rilasciate a questo punto però mi viene una domanda ma non abbiamo tecnologie mezzi strumenti processi chimici invece per riuscire anche ad abbattere queste molecole che sono effettivamente biorecalcitranti cioè che i batteri dei fanghi attivi non sono in grado quindi completamente di abbattere abbiamo messo a punto tecnologie per riuscire invece in questa impresa sì la risposta è sì sono state messe a punto anche se attualmente assai poco utilizzate nei prossimi anni però la legislazione europea spingerà molto verso la loro adozione sono le cosiddette tecniche quaternarie di trattamento dell'acqua c'è da considerare che attualmente molti impianti di depurazione delle acque non hanno neanche il cosiddetto sistema di trattamento ternario piccola cosa giusto per chierire nei vari sistemi in quello che è il treno di trattamento dell'acqua fognaria esiste un trattamento primario che consiste sostanzialmente nell'eliminazione dei solidi poi c'è un trattamento secondario che la vasca fanghi attivi quella che deve biodegradare i vari composti inclusi se tutto va bene gli inquinanti poi c'è un trattamento cosiddetto ternario che consiste sostanzialmente nell'eliminazione dell'azote del fosforo quando c'è e quella che è sostanzialmente l'eliminazione di residui di farmaci ed altri composti e qui parliamo degli inquinanti emergenti quindi il sistema che dovrebbe degradare gli inquinanti emergenti si chiama sistema di trattamento o si chiamerà mettiamola così sistema di trattamento quaternario e nei prossimi anni gli impianti di depurazione nell'unione europea dovranno dotarsi di sistemi di questo tipo ecco però mi viene una da farmi una domanda nel momento in cui noi lo rilasciamo eventualmente proprio perché magari gli attuali impianti di depurazione non sono ancora capaci di un abbattimento completo di questi composti questi composti nell'ambiente forse madre natura in realtà è più intelligente di noi e quindi riesce in quello che noi artificialmente non siamo riusciti a fare allora ni mi verrebbe da dire madre natura ha molte risorse questo sì è in grado di fare tante cose ahimè non si preoccupa più di tanto delle conseguenze di quello che fa che cosa voglio dire immaginiamo che un inquinante come il ibuprofene o come la carbamazepina finisca nell'acqua di un fiume in una situazione di questo tipo effettivamente quello che succede è che possono esserci delle reazioni di trasformazione proprio nell'ambiente non sempre processi biologici abbiamo detto che questi composti se sono sopravvissuti al trattamento dell'acqua fognaria in realtà devono essere biorecalcitranti e quindi se non sono stati degradati in una vasca fanghi attivi nell'impianto di trattamento dell'acqua fognaria ben difficilmente saranno degradati in un fiume però in un fiume non ci sono solo i batteri non ci sono solo i microrganismi ci sono c'è anche la radiazione solare che può avere un ruolo molto importante in particolare nella degradazione di questi composti poco biodegradabili e soprattutto funziona meglio la radiazione solare se i composti sono solubili in acqua quindi è proprio l'identikit di questi farmaci ma c'è un problema partiamo dal presupposto che come ben disse la voasia un po di tempo fa nulla si crea nulla si distrugge tutto si trasforma anche queste molecole si trasformano il problema è in che cosa quali sono gli intermedio i prodotti di trasformazione ad esempio di trasformazione fotochimica ebbene in molti casi quello che succede è una detossificazione quindi i composti che si formano sono innocui ma ci sono delle eccezioni tanto per dirne una la carbamazepina abbiamo detto un farmaco antipilettico benissimo però in seguito ad interazione con la radiazione solare si trasforma in acridina tra le altre cose e l'acridina è un composto mutageno e quindi decisamente molto peggio del composto di partenza un'altra molecola il triclosan il triclosan è utilizzato come antibatterico nei saponi liquidi ebbene questo composto si degrada nell'ambiente ma produce una diossina la diossina forse qualcuno si ricorderà del nome seveso un importante incidente industriale alla fine degli anni 70 e lì un'altra diossina peggiore di quella che si forma dal triclosan ha obbligato sostanzialmente un intero paese ad essere evacuato perché si temevano non del tutto a torto effetti dannosi sulla salute umana quindi in certi casi i processi di trasformazione ambientale sono tutt'altro che innocui quindi non sempre madre natura fa un buon lavoro anche perché madre natura non è obbligata a rispettare le leggi rispetto alle proprie leggi giustamente cerchiamo di riassumere abbiamo visto che nel momento in cui assumiamo ad esempio dei farmaci utilizziamo dei composti di sintesi noi in parte li possiamo rilasciare all'interno dei sistemi anche di gestione dei reflui e non sempre gli attuali sistemi sono in grado di abbattere completamente e quindi li rilasciamo in natura dove subiscono eventualmente trasformazioni che possono più o meno essere in grado di tossificare il nostro sistema mi piace anche sottolineare che sia l'aspetto di natura tecnologica cioè la messa a punto di nuove tecnologie per l'abbattimento per questi sistemi quaternali sia lo studio di quello che effettivamente a queste molecole succede nell'ambiente sono due tematiche cardine del progetto dipartimento di eccellenza un progetto vinto dal dipartimento di chimica pochi anni fa e che è attualmente in corso che si occupa anche di tematiche che come avete visto sono estremamente complesse perché tutte le parti vanno interagire fra di loro influenzandosi una con l'altra e che quindi trovano studio ricerca e si spera anche qualche soluzione anche all'interno delle mura del dipartimento di chimica dell'università di torino direi che per oggi è tutto ringraziamo il nostro pubblico per aver per averci seguito in questa nuova puntata in questa puntata di molecole in scatola e alla prossima molecole in scatola è realizzato dalla commissione public engagement del dipartimento di chimica dell'università di torino dipartimento di eccellenza 2023-2027 da un'idea di francesca turco musico originali di filippo turci si ringraziano paolo mazza ed il team ict per l'assistenza tecnica e shiva sale pur per il montaggio le puntate sono disponibili sul canale youtube del dipartimento sulla piattaforma podcast spreaker e su spotify del dipartimento del dipartimento del dipartimento di chimica